Il palio dell'edizione 2016 sarà quello disegnato da Giorgia Pacenti, alunna dell'Istituto Apolloni di Fano e prima classificata al concorso inditto per scegliere il drappo del palio delle contrade. Giorgia e gli altri alunni che hanno partecipato sono stati premiati sabato scorso nella sala del Consiglio Comunale. Ho preso spunto dalle tecniche presentate dal prof Petreti di arti figurative pittoriche e con la tecnica della pittura a uovo. Ho preso spunto dai disegni e delle foto del Medioevo e ho realizzato il disegno, il progetto, prima progettato con degli schizzi e poi ho messo bozzetta. Sono stata contenta. A collaborare alla realizzazione degli elaborati sono state le scuole Apolloni, Senica e Olivetti di Fano con ben 25 studenti nella giuria, anche la dirigente scolastica Anna Gennari. È stato accolto con entusiasmo a questa proposta, tutti dei bellissimi lavori. È chiaro che poi ci deve essere un vincitore, per cui anche se affatica naturalmente la scelta è stata fatta. Ecco, però è stato veramente un onore, anche perché con questa Paldonfaccia noi abbiamo cominciato questa collaborazione con il discorso dei Petrucci ed è una bellissima collaborazione che mette anche i ragazzi a contatto con queste associazioni del territorio che fanno veramente tanto per il territorio. Infatti la Pandolfaccia, che ora conta più di 150 aderenti, nel tempo ha saputo farsi conoscere, arrivando a riempire un calendario con oltre 40 eventi solo fino al prossimo ottobre. Da questo momento parte ufficialmente il Palio delle Contrade, è stato realizzato da questa bellissima ragazza e hanno fatto dei lavorati veramente belli. Per noi della Paldonfaccia è un onore ed è un onore che il Palio delle Contrade diventa sempre di più un evento della città e aperto a tutti. Ora l'appuntamento per quest'estate dal 26 al 28 agosto alla pinita del Ponte Metauro e non solo quando l'atteso Palio delle Contrade ci porterà indietro nel tempo all'anno 1399 facendo rivivere antiche atmosfere con un tuffo nell'afano tardo medievale.